Siamo con Alessia Del Torto, capogruppo di Cambiare in Comune. Giovedì prossimo un consiglio comunale straordinario. Come si prepara Alessia a questo consiglio? Purtroppo devo constatare che in questi giorni è stato toccato veramente il fondo della politica locale. La stampa è stata bombardata di articoli purtroppo per me inaccettabili. Penso che la cittadinanza di Portoferraio non abbia bisogno di questo. Abbia bisogno di persone che oggi si impegnino e lavorino tanto e seriamente. Noi come gruppo di opposizione l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo con tutte le nostre convinzioni. È per questo che al prossimo consiglio comunale presenteremo degli atti importanti su dei temi caldi. Abbiamo chiuso lo scorso consiglio comunale su tre tematiche importanti, sul parco delle ghiaie, sui punti blu e sulla trasparenza amministrativa. Riapriremo il prossimo consiglio comunale dopo ovviamente la nomina del nuovo presidente del consiglio con tre nuovi atti. Uno riguarderà la nostra sanità perché dopo cinque mesi di silenzio da qualche giorno si leggono battibecchi articoli ma ancora non abbiamo capito da che parte sta la giunta Ferrari, quale sia il suo vero progetto sanitario. Parleremo della piscina perché ad oggi 10 novembre non abbiamo ancora saputo nulla e parleremo del traffico. Abbiamo presentato un'interrogazione scritta della quale avevamo depositato gli atti il 2 ottobre e oggi dopo 38 giorni non abbiamo ancora avuto alcuna risposta. Abbiamo bisogno di risposte, i portofraiesi hanno bisogno di risposte. Noi ci impegniamo come abbiamo sempre fatto e speriamo che la cittadinanza continui a partecipare. Come avrete capito venerdì scorso partecipare ai consigli comunali è importante. Partecipare, ascoltarci dalla dimensione della realtà. Per questo voglio rinnovare il mio invito a tutti i portofraiesi a partecipare al prossimo consiglio comunale che si terrà giovedì 13 novembre alle ore 15.30 e insieme affronteremo quello che c'è da fare. Grazie.